Finalmente siamo ritornati su Uwufu, il famosissimo sito dove praticamente si sfidano due influencer ragazze in questo caso perché lo farò io E alla fine praticamente uscirà quella è la migliore, quella è la più bella secondo i miei gusti e tutta la classifica Ragazzi l'ultima volta Luca mi ha fatto soffrire perché l'ha fatto con me e adesso tocca a testa Va bene lo farò io non è un problema, intanto guarda qui ragazze italiane difficoltà impossibile Nevo io capire un po' i tuoi gusti, dai iniziamo Ok, ok, giocare, iniziamo Turno di 64, inizia Allora, 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 chi è questa qui? La polla Michelle E qui non c'è nessuno Vabbè, per forza la polla Michelle Ma che cavolo di Uwufu è? Allora, Giorgia Malerba e Camilla Masato Sai chi è lei? Allora, sì, sì, quella che c'era ieri alla cosa Allora, allora, Camilla Masato, una bella ragazza sicuramente Giorgia Malerba, guarda, non vuoi questo mio bianco, mamma mia Madonna Luca, no, te lo dico Vi dico già ragazzi che oggi ho i 5 minuti, eh, va a dire Alice De Bortoli e Alice Pergo Vabbè, Alice De Bortoli, ragazzi, qui Cioè, veramente Sì, poi dopo l'ultima sera io lei E Anna Rita Esposito, anche perché è l'unica Ah, Greta De Santi e Sara Cavestro Allora, Sara Cavestro non so chi sia Greta De Santi la conosco molto bene E la segui pure su Instagram, mi immagino No, su Allifian, solo abbonamento Ah, ok Sto scherzando, ragazzi Però ero lì per farlo Irsi Domenico e Giulia Paglianiti Io dico Irsi Domenico Allora, in questa foto non mi piace Però in generale è esatto bella Allora, Alice Muzza, Corinne Pino Io dico Alice Muzza Più carina Alice Muzza Eh, vabbè, grande Luca Tutti, fammi per lei Fammi un attimo capire Ah, in generale Ma chi è questa qui? Shanti Graniti Cazzo, vuoto Fu vuoto Dai, Luca Sto scherzando Una bella ragazza, però dai Cioè, cosa c'è c'è scritto lì? Aurora Baruto, Alessia Lanza Allora, io metto Alessia Lanza Ma non di tanto Cioè, Aurora Baruto Abbiamo capito, abbiamo capito Abbiamo capito questa cosa Sfattato il mito che Ma, ma Oh, Cristo Eh, dai, dai, dici, mi sa mai Poi, Nicky Passarella e Martina Trinca Nicky Passarella senza neanche pensarci Andiamo avanti Anna Chati, Elena Petrin Sai che ti dico Elena Petrin? Elena Petrin Quella faccia da Dai, avanti Dai, dai, Luca Allora, Gaia Gravaglia Yasmin Barbieri Però, c'è da dire una cosa Se mi metto una foto Di una in costume E l'altra vestita Dai, Luca Ma tu devi guardare in generale Cazzo Ma io riesco a vedere solo le tette In questo caso Guarda qui E guarda qui Dai, quelle scelgo Vabbè Scelgo però Yasmin Barbieri Yasmin Barbieri Non so, vero? Gaia Gravaglia Bellissima ragazza, eccetera Noi Micasella L'ho già vista Sta bianchetta Non so chi sia Scelgo Noemi Casella Bionda, stavolta Stavolta bionda Stavolta bionda Celeste di mare Oh, famosissima Noemi Puntini Dai, Luca Non li ho mai viste Noemi Punti Come non le conosci? Tu le conosci? Certo che le conosco Non lo so Sarà che non hanno lì Sto scherzando Celeste di mare Noemi Punti E celeste di mare Celeste di mare Allora, Viviolix Giulia Scarano Sai che non lo so? Allora Allora, fammi ragionare un attimo Però le foto comunque non sono giuste Esatto Perché una fa la p***a L'altra no Giulia Scarano Non so Mi ispira di più Giulia Scarano Più piccolo Mi ispira di più Chi sta già da star? Già da stabile Già da stabile Guarda Dai, già da stabile Ma che roba Dio Bono Ma guardano un secondo Cioè, ma c***o Ma la metterai incinta? No Incinta nel senso Gli ha fitto un bambice Rebecca parziale Rebecca parziale Rebecca parziale Ok Mi piace però in modo parziale Basta Classico Grisda o Sofia Crisefulli? Sofia Crisefulli Attenzione, attenzione Perché adesso io adesso te ne dirò uno, due Che Asia Busciantella Teresa Valentino Che cavolo è Teresa Valentino? Io direi Asia Busciantella Ok Ok, attenzione perché qui Siamo 21 su 32 Andiamo Samantha Friason Francesca Barbieri Che cavolo è Francesca? Samantha Friason Forza, andiamo veloci Andiamo veloci E di impatto Alice Carollo E Alice Carollo Vai Giulia Ottorini Dalila Stabile Scegliamo Dani Dai Mia carissima amica Dalila Lei è una persona molto stabile Emily Parmino Maria Solefoglio Dai, Maria Solefoglio Difficilissimo Allora No, no, no Super difficile Super difficile Allora 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 Perché? Ti spiego un attimo come è andato Se devi seguire i tuoi gusti Scegli Maria Solefoglio Esatto Quindi scelgo lei Allora Emily Perché è molto simile a te Sei capitato in un round Un po' così Carlotta d'Este Famosissima Giulia Ardolino Super conosciuto Chi siano Però C'è da dire che Giulia Giulia è una posa molto carina Luca veramente Allora Tu hai fatto tuo Io faccio il mio Allora Lucrezia Grande O Giulia Izzo Lucrezia Grande Guarda qui Ma non vale perché sono in costume Gaia Gaia Clerici Io decido dalla foto Chi è quella che mi piace di più Giulia Salemi Angelica Colombo Giulia Salemi Scusami Angelica Giulia Mannucci Oh Cristo Questa è quella che ha fatto il collegio Per forza Giulia Mannucci Mamma mia Incredibile Gaia Bianchi Gianni Servi Gianni Servi Che mi sta su Gaia Bianchi Oh scusi Su Nintendo Andiamo avanti Nicole Micoli Ah lei la conosco Elena Berlato No Elena Berlato no Fermo Prima di continuare il video Controlla di essere iscritto al canale E se non lo sei Fallo subito Non mi piace lo sai Mi sembra Cavolo mi sembra Nooo mi sembra Mi sembra una bella ragazza Meris e lo Miriam Dalla foto Effettivamente Io direi Meris e il Ma perché è bello il mare Ma il mare dietro è super carino È limpido Round 2 Attenzione Greta De Santi Noi mi casella Oh qui diventa molto più difficile raga Non lo so Allora Greta De Santi Attenzione Greta De Santi Va bene Ma non perché nella foto è venuto meglio Fai silenzio Allora Alice Muzzo Dali la stabile Attenzione Chi scelgo Allora Però seguendo la mia teoria delle foto Effettivamente un po' più carina Alice Muzze In questa foto Alice Muzza Io sono neutra Alice Muzza Scusami Alice Muzza Ma sono difficilissime queste Alice Le Bortoli Perché lei è bella Ma i capelli rossi Non mi fanno No no Perché mi corri con che la faccia Fai silenzio Vai che ti chiama il bagnino Giusea Ardolino Attenzione Giusea Ardolino Famosa Ardolino È già da stabile Guarda con quella bruzzatura Le visito bianco Capelli bianchi Va bene Come all'inizio Va bene Fai silenzio E chi vince Elisa Maino Ma non è vero Giorgia Malerba Giulia Mannucci È È È Giorgia Malerba Allora Attenzione Alessia Lanza Annalita Esposito Annalita Esposito Ce ne ha veramente troppo grosse Luca veramente Dai Le mani Siamo su Youtube Italia Ma no Le mani Rebecca Parziale È Gaia Clerici Attenzione ragazzi Perché qui si fa dura Ci resta di mare Ears di sabato E Celeste di mare Celeste di mare Attenzione Siamo lì Siamo per arrivare Alice Carollo Ma non leggo neanche l'altro nome Giulia Scarano Asia Busciantella Ma perché ogni volta che mi viene un commento da fare Poi penso che non posso farlo Asia Busciantella Eh no Allora Mary mi spiace Ma qui Elisa Maino Eh tanto Lo so che avevo che vinci Elisa Maino Mi hai stufato Mi hai stufato Sofia Crisafulli O Jenny Serpi Jenny Serpi La Polla Michelle Lucrezia Grande Perché assomiglia Lucrezia Grande Samantha Brison Giulia Salemi Io direi Giulia Salemi Ok Questa è difficile questa Però attenzione Giada Stabile Lei è una persona molto sul pezzo Molto stabile Sempre la solita cosa dico O Giusy Ardolino Giada Stabile ragazzi Giada Stabile Allora attenzione Qui ci potrebbe essere una cosa molto particolare Alessia Lanza Lucrezia Grande Ma lei la conosce Lucrezia Grande No Però mi sembra abbastanza figa E Allora 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 Alessia Lanza Carina 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 Ma anche Lucrezia Grande Carina Lucrezia Grande Incredibile Jenny Serpi Alice Muzza Allora Jenny Serpi Alice Muzza Io sono Nenta Jenny Serpi In questa volta mi piace di più Jenny Serpi Brava Jenny Oh Questa è difficile Allora 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 Ti racconto Allora Con lei L'altro ieri sera Mi sono abbastanza divertito Ma con lei Ieri sera è stato comunque bello Quindi Allora Per la teoria Che mi piacciono di più le more Io ti dico Maria Sole Poglio Comunque è molto difficile Siamo lì con tutto Ma Ah se bucciantella Ma via Ma lontani Luca No intendevo Allora Greta del Santi Celeste di mare Celeste di mare Non lo so Per esempio Mora Mora La mora La mora vince Celeste di mare Attenzione Perché arrivano Le ultime Gaia Clerici Giulia Salemi Mi spiace Giulia Ma Gaia Clerici Siamo lì Siamo lì Siamo lì Attenzione Giorgia Malerba Rebecca Parzale Giorgia Malerba Eh no Guarda quel vestito bianco Dice Guarda anche qui Già da stabile Con questo vestito bianco Allora Eh 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 Attenzione Allora È bella Ma tu la conosci No Non so chi sia E allora Scegli Cosa devo scegliere Posso mai votare questa qui Lucrezia è grande Ma chi sei E poi guarda che foto Gli hanno messo Dai Dio Bono L'altra Ma perché non si è messa Quello vestito di l'altra Sera Che di come Gaia Clerici Maria Solepoglio Maria Solepoglio Stiamo capendo Attenzione Jenny Serpi Giorgia Malerba Eh Però se passa al giardiniere Come fare a essere Malerba Allora Sai perché Non è affidabile Jenny È come una serpe Basta Io direi Giorgia Malerba Eh Qui è difficile Qui è difficile Devo ragionarci un secondo Allora Valutiamo un attimo insieme Allora Avranno entrambe Una terza No Luca No La terza Nel senso I Del appartamento Qui vivono Allora 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 Quel cazzo Citro bianco Però Allora 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 No È troppo difficile Ragazzi Non riesco a dire Cioè Guarda che dopo Sono ancora più difficile Eeeh Giorgia Malerba O Maria Solepoglio No ragazzi È troppo complesso Non lo so Allora Dammi un consiglio Io ti devo dare un consiglio Il mio personale Vai dammi un consiglio Entrambe Cazzo che consiglio è Dammi un consiglio Di una o due No Non lo so Cioè Tu cosa sceglieresti Io sapevo Che a te C'era tanto male Solepoglio Che era tipo Una tua crash Eh Però Giorgia Malerba Guarda Anche Giorgia Malerba E' veramente E' veramente bella Dai Quindi chi Io direi Maria Solepoglio Luca devi scegliere Maria Solepoglio Vado Maria Solepoglio Allora Vestitino bianco Cazzo No però no Allora Vestitino bianco Sei stata bella Mi hai accompagnato Levati perché qui No Ho sbagliato a cliccare Ho sbagliato a cliccare E adesso chi vince Dai Eh ragazzi Però C'è Cosa avevo predetto io Cosa avevo predetto Sai cosa faccio io Maria Solepoglio Va f***o Solamente per andare a mia soddisfazione Silenzio Invece è stato tutto onesto Avrebbe visto l'Itamai È stato tutto onesto Ma è stato tutto onesto Allora ragazzi È stato tutto onesto Non ho assolutamente fatto Maria Solepoglio Per non dare la soddisfazione a lei Iscrivetevi al canale Attivate la campanina Seguite il canale di Sala Link in descrizione E noi ci vediamo Nel prossimo video Bella Lasciamo